Ti stai preparando al concorso docenti e stai cercando quiz risolti e spiegati? Sei nel video giusto! Negli ultimi mesi ho pubblicato diversi video documenti riguardanti i quiz di logic della preselezione del concorso docenti. Ti metto in descrizione l'indice di tutte le risorse. Ho diviso l'indice in tre parti. Nella prima parte c'è una divisione per tipo e quindi troverai le lezioni singole, le catene di quiz, le dirette e i documenti. Nella seconda parte ho diviso le risorse per argomento. Così se hai bisogno di una specifica tipologia di quiz da ripassare sai subito dove trovare le risorse. Nella terza parte poi ho aggiunto risorse che non sono pensate per la preselezione ma che possono esserti utile per un approfondimento. Se trovi che questo video ti sia utile metti il like e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale e clicca sulla campanella così verrai notificato ogni volta che aggiungerò delle nuove risorse. Ciao!